Mal tempo, disagi contenuti, ma allerta meteo prorogata anche a domani. Denghafano, i casi sono 105 ma decresce la curva dei contagi. Ladri di batterie d'auto ibrida, 6 segnalazioni di furto a Pesaro. A Pesaro 1.500 commercialisti da tutta Italia per il convegno nazionale della professione. VL flop al debutto casalingo, Vigevano vince a Pesaro con merito. Buonasera a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione serale di Rossini News. Telegiornale di giovedì 3 ottobre, una giornata caratterizzata da un allerta meteo di livello arancione per criticità idrauliche e idrogeologiche, segnalata già dalla giornata di ieri, in particolare per quanto riguarda la nostra provincia pesarese e quella anconetana. Fino a questo pomeriggio la situazione è risultata sotto controllo, senza particolari disagi, per una giornata caratterizzata da precipitazioni costanti, ma di intensità moderata, poi cresciuta nel pomeriggio. La conseguenza da maltempo più significativa è al momento quella di un albero crollato nel parcheggio dell'ospedale di Senigallia che non ha causato feriti. Senigallia è che uno dei tanti comuni anconetani, capoluogo compreso, che oggi ha scelto di non aprire le scuole. Una scelta di chiusura che nella provincia di Pesaro Urbino è stata adottata solo dai comuni di Fano e di Mondolfo. Intanto la protezione civile ha prorogato all'intera giornata di domani, venerdì 4 ottobre, l'allerta meteo con il rischio di piene e di frane, ridimensionato però da livello arancione a livello giallo. Ed ora ci occupiamo del focolaio di Denghe a Fano, con i contagi che toccano quota 105, ma con la curva dei casi che pare in fase discendente, come constatato oggi dalla riunione straordinaria del gruppo regionale delle emergenze sanitarie. Intanto si preparano nuovi interventi di disinfestazione. A Fano ci sono 105 casi confermati e 14 casi probabili di Denghe. Attualmente le persone ricoverate non in condizioni gravi risultano essere solo 6, di cui 2 casi accertati e 4 sospetti di infezione. E questo è il dato sul focolaio in corso che emerge oggi dopo la riunione del gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie. Dal primo caso risalente all'incirca ferragosto all'ultimo diagnosticato il 25 settembre, secondo il Gore se si sta constatando un trend di diminuzione con casi sporadici e con la curva di incidenza in fase discendente. Intanto però continuano le indagini epidemiologiche per definire le caratteristiche dei casi e le indagini entomologiche con il posizionamento di trappole per zanzare. Tutte le attività in campo sono state avviate in collaborazione tra i servizi di prevenzione umane e veterinari ed è stato potenziato il sistema di sorveglianza attiva, sensibilizzando i medici e i pediatri per l'individuazione di pazienti con criteri clinici compatibili con infezione da Denghe. Sono state anche poste trappole per zanzare per studiare la consistenza della popolazione di insetti e il loro grado di infettività. Come comunicato dall'Istituto Zooprofilattico, le ultime catture non hanno evidenziato la presenza di virus come era invece stato rilevato nei giorni precedenti. Intanto il Comune di Fano prepara nuovi interventi di disinfestazione. Come da prassi, il Centro Regionale Sangue ha invece indicato che in caso di donazione di sangue sia per i donatori di Fano che per quelli che sono stati a Fano per poche ore venga effettuato il test per Denghe. Sono stati finora effettuati 438 accertamenti su residenti a Fano e 238 su persone transitate in città. I risultati sono tutti negativi. Sul tavolo della Questura a Pesarese sono finite per la prima volta delle denunce di furti di batteria di auto ibrida. Furti che sono stati segnalati ieri, in particolare nelle aree di sosta, limitrofe al centro direzione alle Benelli e in via della Neviera, così come in zona Pantano. In una notte sono state infatti prese di mira 6 Toyota CHR alle quali sono state smontate le batterie collocate sotto i sedili. Batterie presumibilmente da collocare sul mercato nero. Nel frattempo chi a sporto denuncia registra danni per circa 9 mila euro fra il furto e la effrazione alla carrozzeria dell'automobile. Cambiamo argomento. Saranno 1.500 i commercialisti provenienti da tutta Italia pronti a ritrovarsi a Pesaro per il convegno nazionale di categoria che si terrà in città a metà mese. Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, si prepara ad ospitare un altro evento nazionale. Si tratta del convegno Commercialisti NEX, generazione di professionisti verso nuovi scenari. L'ordine nazionale ha infatti scelto la città pesarese come comune ospitante per un evento che guarda al futuro della professione. È un evento molto importante che si abbina al fatto che Pesaro quest'anno è capitale italiana della cultura 2024. Questo è un evento culturale, è un convegno, è una formazione sul futuro della professione, sul futuro dell'economia. Si parlerà di digitalizzazione, di sostenibilità, di etica del lavoro e dell'impegno. E quindi tutti elementi che sono importanti per lo sviluppo sia dell'economia ma anche soprattutto della nostra professione. Ci sarà un dialogo con i giovani, cercheremo di ascoltare le loro richieste, le loro problematiche per poterli, diciamo così, delineare le linee guida della professione futura assieme ai giovani. Il convegno non sarà composto solo da panel ma anche da momenti di divertimento e confronto che vedranno la partecipazione di volti noti della cinema, dello spettacolo, dello sport e dell'imprenditoria. La sera avremo una cena di gala che faremo alla Vitri Frigo Arena, qui sempre di Pesaro perché saremo oltre mille i partecipanti e per cui avremo necessità di uno spazio, diciamo così, adeguato e ci sarà il comico albanese che parlerà sulle diverse questioni dell'economia con un taglio comico e quindi faremo delle riflessioni ridendo sul futuro sia del nostro paese che della professione. Il giorno invece seguente avremo tutti i personaggi di successo che nei vari aspetti dell'economia che vanno diciamo dallo sport, infatti sarà presente Bergomi, Caressa come conduttore televisivo ma ci saranno anche degli imprenditori di primo piano come i Guzzini e tutti insieme spiegheranno qual è la formula, quali sono gli elementi comuni che portano al successo nella vita professionale. Lo sguardo del convegno è rivolto al futuro e all'accambiamento dettato dal progresso. Obiettivo quindi della due giorni sarà anche quello di scoprire come si sta evolvendo la professione dei commercialisti. La nostra professione si è molto evoluta perché partendo da quello che era un po' il caposaldo che era la consulenza fiscale, oggi si sta modificando tanto. Quindi lo scopo che è quello anche promosso dalla fondazione è quello di spingere i giovani verso nuove attività che sono offerte, ad esempio con l'introduzione dell'intelligenza artificiale verso quali i giovani chiaramente sono anche più portati di noi professionisti un po' più anziani. La sostenibilità, la sicurezza che sono argomenti che non riguardano solo le aziende ma riguardano la società più in generale e su questo vorremmo tentare di dare il nostro contributo anche all'interno di queste due giornate del convegno. Nuova sede per la Confesercenti di Gabice Mare. Ne parliamo in questo servizio. Si è tenuta oggi l'inaugurazione della nuova sede di Confesercenti a Gabice Mare, un sede che è stata spostata in una zona più centrale, soprattutto più raggiungibile del comune e della città per permettere a tutti gli esercenti e a tutti gli imprenditori di avere delle garanzie buone e nuove per le loro attività. È uno di quei progetti sui quali lavoravamo da tanto tempo, quello di aprire una nuova sede perché siamo già operativi in questo comune da tanti anni, però quello di oggi è un progetto che prende forma già da diversi anni, che è quello di ristrutturare e riqualificare tutti i nostri servizi sia per gli associati ma anche per attività sindacale. È stata una richiesta specifica dei nostri associati che volevano avere una sede più comoda, più smart, quindi più intelligente, più interattiva anche con loro. Abbiamo delle professionalità all'interno che sono molto importanti e che, essendo professionisti, hanno dei settori specifici, però faranno da trade union con la casa madre, quella di Pesaro, che in realtà poi è piena di grandi professionalità, di professionisti ed è un coacervo di tante attività che confesarcenti dal nazionale ma poi al provinciale e oggi anche qui, che aiuteranno tantissimo, secondo il nostro parere, i nostri associati. Le attività si dividono, diciamo che si dividono tra attività stagionali, attività annuali e siamo in tutto, adesso a larghe linee, una settantina e oltre. Quelle che aiutiamo sono giornalialmente. Quali erano le maggiori difficoltà per gli imprenditori della zona? La maggiore difficoltà, quelle che hanno gli imprenditori di Gabice, sono quelle che hanno tutti gli altri imprenditori. La difficoltà grossa qui è che se al confine con la Romagna, che ha un'altra gestione turistico-commerciale, e molte volte bisogna adeguarsi. Non bisogna perdere la propria identità, perché noi siamo marchigiani, però ogni tanto capire anche qualche suggerimento che ci dà la parte romagnola non sarebbe male. Abbiamo delle eccellenze sia turistiche che commerciali e credo che in questo momento siamo in grado di poter fare il lavoro che abbiamo intenzione di fare, portare avanti questa intensità sindacale che è necessaria nella zona. I confesercenti, tra le altre associazioni che abbiamo qui sul territorio, sicuramente è una di quelle di maggior prestigio che seguono molto la parte del commercio, mentre magari con commercio, con partigianato, hanno anche altre tipologie, e CNA hanno altre tipologie di utenti, di destinatari dei loro servizi. Comunque è una situazione molto forte a cui spetterà insieme all'amministrazione un progetto di grandi sfide, perché abbiamo intenzione, come già detto poi in campagna elettorale, ma io ricordo tutte le mie parole, di strutturare un tavolo di confronto, di condivisione proprio con queste associazioni del territorio per affrontare i vari problemi che riguarderanno le attività economiche. È iniziato il mese di ottobre, da questo fine settimana parte la ricca proposta di rassegne dedicate al tartufo. La prima a tagliare il nattro sarà la mostra Mercato di Apecchio, che parte proprio domani, venerdì 4 di ottobre. Sarà un fine settimana ricco di eventi, dal 4 al 6 ottobre, è la manifestazione che apre nel territorio la stagione del tartufo e l'evento clou è quello della domenica pomeriggio, il 6 ottobre, con l'ospite, che quest'anno sono i Mattia Bazar, che verranno incoronati a regina, re del tartufo. Gli appuntamenti sono tantissimi, sia di intrattenimento musicale, di intrattenimento per i bambini, ma anche eventi più legati alla cultura. Da cornice ai tre giorni della festa, le osterie con i loro prodotti tipici, che sono il tartufo, la birra e tutti gli altri prodotti gastronomici del territorio. È la prima edizione che si colora di arancione, perché a febbraio 2024 ci è stata assegnata dal Touring Club italiano la bandiera arancione, quindi la 42esima edizione della festa, che negli anni ovviamente ha subito delle modifiche, è stata anticipata ad ottobre, si è dato sempre più risalto alla birra. La novità di quest'anno è la tonalità arancione, con questa importante assegnazione nel settore del turismo. E da Pecchio passiamo a San Lorenzo, in campo Borgo, che sarà il prossimo dei 50 comuni pesaresi ad essere capitale della cultura per una settimana, a partire proprio dal prossimo 7 di ottobre. Sia le note che la tradizione sono i due fili conduttori della nostra settimana. È una notte perché da oramai diversi anni ci siamo denominati paesi della musica, abbiamo stretto anche un accordo con la città di Pesaro, che è chiaramente città della musica riconosciuta UNESCO, e tradizione. Perché tradizione? Perché abbiamo voluto dare pari dignità a tutti gli aspetti della cultura di un centro come il nostro. Quindi non solo arte, appunto musica, che sarà uno degli aspetti fondamentali, archivi storici, le figure iconiche del nostro passato, la famiglia della Rovere, Mario Tiberini, il nostro concittadino più illustre, tenore dell'Ottocento, ma anche gli aspetti più legati quindi alle tradizioni, alla cultura rurale, alla cultura contadina, che è quella da cui chiaramente il nostro borgo, il nostro paese nasce ed è cresciuto. Quindi pari dignità a tutti e abbiamo anche inserito una cosa molto importante, credo che voglio sottolineare, quella delle scuole. Le scuole saranno protagoniste in moltissimi di questi eventi, avranno molti eventi anche loro dedicati, in altri saranno coinvolti direttamente tramite altri tipi di progetti, ma perché crediamo che sia fondamentale che sin da piccoli si impari intanto quello che ci di bello, di importante nel proprio paese e tramite questo poterlo trasmettere ai genitori. Eventi importanti saranno quello sicuramente con il paesologo Franco Arminio, che ci racconterà appunto dello spopolamento dei borghi, poi saranno coinvolti diverse associazioni come la Macina Terre Alte, che proporrà una camminata il venerdì mattina, poi avremo appunto il collettivo collegamenti che proporrà uno spettacolo sugli ultimi della Rovere, poi saranno presentati degli studi fatti sull'archivio storico e su San Demetrio, in due serate che sono quella del martedì e quella del giovedì, poi il mercoledì al Borgo di San Vito avremo un convegno sulla panificazione, perché abbiamo incentrato appunto una delle nostre tradizioni fondamentali, che è quella della panificazione e quindi nella giornata di domenica verrà riaperto il forno comune a San Vito, dove grazie a San Vito Giovani l'associazione sarà possibile rivivere appunto e rievocare il momento della cottura del pane. Verrà rievocata quella che è la merenda del ventore, la merenda del contadino, grazie al Museo delle Terre Marchigiane e sabato alle ore 10 ci sarà una tavola rotonda per quanto riguarda i birocci storici. Abbiamo realizzato un'attivazione di Play Project, dispositivo interattivo per attraversamenti poetici, un progetto che seguiamo da diversi anni e che per l'occasione appunto si chiamerà Play San Lorenzo in campo. Sarà una passeggiata sonorizzata, il pubblico riceverà delle cuffie wifi e farà un percorso che abbiamo realizzato, un percorso audio attraverso vari luoghi iconici. Pesaro sta dalla musica UNESCO, San Lorenzo un comune, una città fortemente musicale, a partire dal teatro Tiberini, a partire dalla storia dei Tiberini, e a partire anche dalle realtà musicali e dello spettacolo al vivo particolarmente attive che saranno protagoniste della settimana, assieme però alla fotografia, assieme alla cultura, assieme alle mostre, ai luoghi della cultura che saranno particolarmente aperti e visitabili, assieme anche alle attività in plein air e anche alla spinta sull'enogastronomia che è un altro degli elementi che dal nostro protocollo originario, prima ancora il dossier di capitale della cultura, lega Pesaro a San Lorenzo che è una zona anche importante e fondamentale per la storia della gastronomia, della cucina, del nostro territorio, della nostra provincia, della nostra regione. Nella sede di Confindustria di Pesaro Urbino è stato presentato oggi il servizio di medicina del lavoro frutto dell'accordo che Assindustria Consulting ha siglato con Risk Solution di Fano, struttura sanitaria privata specializzata esclusivamente in medicina del lavoro. L'obiettivo dell'accordo è quello di offrire servizi e azioni che portino ad un contributo culturale concreto alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla loro gestione. E al via la seconda stagione dell'opera lirica di educazione finanziaria I Dimenticati. Si tratta di un'opera lirica in forma di cantata sul microcredito e il social business come iniziativa di educazione finanziaria tramite la cultura e la musica che tratterà il tema delle ineguaglianze socio-economiche derivanti dalla globalizzazione economico-finanziaria. L'opera è stata composta dal maestro Stefano Bartolucci. Lo spettacolo si terrà domenica 6 ottobre al Teatro Rossini a partire dalle 11. Sarà eseguita dall'Orchestra Sinfonica Raffaello di Pesaro, diretta dal maestro Bartolucci e dal coro I Cantori della Città Futura. E vi segnaliamo invece che sabato 5 ottobre alle 17 alla Biblioteca San Giovanni verrà presentato il libro di Maria Cristina Maselli, Sigismonde e Sotta, una storia d'amore. La presentazione è inserita nel novero degli appuntamenti di Pesaro Capitale della Cultura e vedrà la scrittrice e autrice di Trasmissioni Rai dialogare con i relatori Cristina Felli e Fabio Zito. E concludiamo il nostro telegiornale con lo sport parlando della VL che dopo la vittoriosa trasferta di Lecce alla prima giornata ha avuto un debutto casalingo ben diverso. Tremendo bagno di realtà per la VL all'esordio della Vitri Frigo Arena nel campionato di Serie A2. La realtà di una categoria in cui ci sarà da battagliare ogni 3-4 giorni con teste e gambe ben collegate. L'ho ribadito forte e chiaro l'esordio con l'Elecan Vigevano che sbanca l'astronave con il punteggio di 80-67 fedele specchio di una partita dominata dagli ospiti fin dalla palla 2. Lombardi che hanno infatti l'approccio giusto per prendere il largo e tenere a bada gli sbilenchi tentativi di rimonta pesarese. Sacripanti a fine gara non si nasconde parlando di sconfitta giusta, di netto passo indietro rispetto a Lecce con tanto di richiesta di scuse ai quasi 4.000 pesaresi che hanno popolato il battesimo infrasettimanale interno nella categoria. Una partita nata male da subito perché Vigevano parte con un netto 9-0 al cospetto dello stesso quintetto di partenza pesarese che male aveva approcciato anche a Lecce. Il risultato è quello di un primo parziale che si chiude sul 16-26. Meglio l'approccio all'è secondo quarto con la rimonta al 30 pari che risulta però un altro fuoco di paglia perché Vigevano piazza un altro break che la manda all'intervallo sul 40-48. Situazione che non migliora nel terzo quarto, chiuso 53-65 per poi arrivare almeno 13 di fine gara che contrassegna il primo successo di Vigevano. I 18 punti di Amade e i 10 di King, unici in doppia cifra, non salvano i due americani da una gara insufficiente. Serverà ben altro domenica con Avellino ancora alla Vitre Frigo Arena. Si conclude qui questa nostra serata di informazione di Rossini News. Non si chiudono però gli spazi informativi sulla nostra emittente perché subito dopo il nostro Tg andremo a approfondire la nascita ufficiale della organizzazione di volontariato Prevaction dedicata al contrasto al spaccio di droghe e soprattutto alla prevenzione al consumo di stupefacenti. Vedremo tutto alle 20 nello speciale realizzato da Teobaldo Bianchini. E poi alle 21 torna l'appuntamento con Insieme a Canestro. Prima puntata del nostro focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesero. Davvero a poche ore da questa brutta sconfitta con Vigevano. Temi che la nostra Elisabetta Ferri approfondirà questa sera in compagnia di una new entry del programma ovvero Alessio Zaffini che vedrete in grafica. Temi dicevamo che verranno approfonditi con il presidente della Carpegna Prosciutto Basket Pesero Andrea Valli e con il giornalista opinionista Michele Zavagnini. Oltre naturalmente alla possibilità di commenti in diretta di voi tifosi al numero Whatsapp dedicato 370-366-721-0. Dunque riparti insieme a Canestro come ogni giovedì. Questa sera ci vediamo alle 21 in diretta. E poi naturalmente l'altra grande novità per quanto riguarda la VL che riguarda il fatto che Rossini TV ve lo ricordiamo ancora è TV ufficiale quest'anno della Carpegna Prosciutto Basket Pesero in questa avventura del campionato di Serie A2. Trasmetteremo infatti tutte le partite in differita già questa sera alle 22 potrete rivedere quanto accaduto alla Vitrifico Arena tra Carpegna Prosciutto Basket Pesero ed Elachem Bigevano e poi altra differita sabato alle 15. E poi naturalmente vi ricordo l'appuntamento con l'informazione del mattino quella di Buongiorno Rossini. Vi aspetto domattina in diretta alle 7.20 con la rassegna stampa dei quotidiani locali. Ed è davvero tutto invece per questa edizione di Rossini News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.